Portgolf, vai dritto in buca. Un pattern meraviglioso. Un canale dedicato con i migliori eventi della stagione. Gran palla. I quattro measure. Che giocatore meraviglioso. Eccezionale. Tutti i tornei del DP World Tour. L'Open d'Italia. I nostri italiani sono pronti sul green. Sky Sport. La tua casa dello sport. Nella gestione dei risparmi, come nel golf, la cura dei dettagli fa la differenza. Anche per questo siamo diventati leader. Anche per questo amiamo il golf. La guerra è imminente e nessuno di noi può vincere. House of the Dragon. Nuova stagione dal 17 giugno in esclusiva su Sky Atlantic. Questo è Mugello. Impressionante. E cari ragazzi. Gran premio d'Italia. Sabato alle 15 la Sprint Race. Domenica alle 14 la gara su Sky Sport MotoGP. Passa a Sky Wi-Fi. La rete fissa più stabile d'Italia secondo Ucla. Pensata per lo streaming, il gaming e le app. A soli 25,90 euro al mese per 12 mesi. Vieni sull'app MySky. Fiusti. Pregiato tennero. Succosa pesca. Delicata rosa. Godi di una fusione di contrasti Made of Fusion. Anche senza zuccheri. Scopri tutte le fusioni sul sito Fiusti.it. Il tè può ancora sorprenderti. I mal di testa non sono tutti uguali. Quando ti opprime puoi provare Moment 200. Quando è forte, Moment Act in capsule molli. Se hai mal di testa da cervicale, Moment All. Per il mal di testa da congestione nasale puoi provare Moment Xin. E per il mal di testa e i dolori da ciclo, Moment nella confezione rosa. Moment. Spegne il mal di testa. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Da Angelini Pharma. Ultima chiamata per il Magnum Pleasure Express. Ovunque ti porti il piacere. Magnum Euphoria, Wonder e Chill. Magnum. True to Pleasure. For the Mustang Mach-E. Radio Z Future It's Live 2024. Roma. Venerdì alle 20.30. In diretta su Sky 1. Radio Z. RTL 125. E in streaming su RTL 125 Play. Che belli i matrimoni. Soprattutto l'aspettare, aspettare e ancora aspettare, sudare sette camicie, assistere a spettacoli inaspettati, scatenarsi su canzoni esotiche. Tutto bello, certo, ma in Smart Wedding. Perché non andarci? È ancora più divertente. Quattro matrimoni nuova stagione. Da domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic. Nel 1992 uscì il nostro primo album. E la nostra vita cambiò per sempre. Wow. Ma io tutto questo, allora, non potevo neanche immaginarlo. Gliotto! Mauro, mi sa che la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano. Gliotto! Max, andrà tutto bene. Sì! Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Tifose e tifosi! Per l'estate italiana di Sky Sport, luci sempre accese sul nostro tricolore! Contro le leggi della fisica, ecco a voi gli europei di atletica! Occhio ai prestigiatori della nazionale, sono pronti a incantarvi ancora una volta sul palco di UEFA Euro 2024! E poi il nostro mago, tra gli erbivori più pericolosi di Wimbledon! Ammirate i supereroi italiani, oltre ogni record, ai giochi olimpici Pari 2024 su Eurosport! E ancora, tutti i nostri domatori dell'asfalto per spingere il tricolore più veloce della luce! I giocoglieri della racchetta, nessun cemento è troppo duro per loro! E si conclude a ve le spiegate a bordo delle navi volanti! E l'estate italiana di Sky Sport, perché il più grande spettacolo del mondo non si ferma mai! Care concittadine e care concittadini, con orgoglio annunciamo che questa estate gireremo la nostra splendida penisola da nord a sud, dalla riviera Libure a quella romagnola, per portare gioia, notizie e tifare tutti insieme gli azzurri all'europeo! Nelle vostre città! Viva l'Italia! Viva Calciomercato d'Originale! Buona continuazione! Ciao! Di risetto, grazie! Vado, che ho il corso di decorazione caschi, insegno! Dai, se ne inventa sempre una, ma lo capisco! Perché è più bello tornare a casa con Sky! E grazie a Sky Extra lo sarà ancora di più, perché puoi avere Sky Glass con uno sfonto esclusivo del 50%! La prima TV di Sky 4K HDR con soundbar e decoder integrati disponibile in diversi colori! Scopri più sulla MySky! Sky Extra, per noi, sei speciale! Benvenuti al più grande spettacolo del mondo! UEFA Euro 2024! Quest'estate si esibiranno per voi i prestigiatori della nazionale! E gli uomini cannone più forti d'Europa! Solo per voi! Tutte le 51 partite anche in 4K! Uno show itinerante fino alla finale! Torniamo a Berlino, Beppe! Lo spettacolo si accende con la nostra tripletta! Albania, Spagna e Croazia su Sky Sport! Quest'estate riempi il tuo bar con lo sport di Sky, il grande tennis e i motori che non si fermano mai! Anche con la qualità di visione del 4K! Ruota, ruota! E in più con il ticket estate! Offri tutti i 51 match di UEFA Euro 2024! Abbonati ora e scopri l'offerta TV Sky Glass a te dedicata! Porta Sky nel tuo bar! Chiamaci all'800 90 33 33 o vai su sky.it bar! Continua il viaggio di Antonino nei peggiori ristoranti d'Italia! Vedetevi, qua stiamo all'inferno! Il fungo fa schifo, te lo dico io! Riuscirà lo chef con i suoi superpoteri a salvarli? Durante il servizio si trasforma! È un lupo mannato! E a risollevarli dal loro triste destino? È nera, a me me lo dici! Cucine da Incubo! Giovedì alle 21 e 15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand! Wey, non perdete il nuovo episodio, mi raccomando! Buona continuazione! Ciao! Di set, grazie! Vado che ho il corso di decorazione caschi in segno! Dai, se ne inventa sempre una, ma lo capisco! Perché è più bello tornare a casa con Sky! E grazie a Sky X lo sarà ancora di più perché puoi avere Sky Glass uno sconto esclusivo del 50% la prima TV di Sky 4K HDR con soundbar e decoder integrati disponibili in diversi colori scopri più sulla MySky Sky Extra, per noi, sei speciale! Quest'estate riempi il tuo bar con lo sport di Sky il grande tennis e i motori che non si fermano mai anche con la qualità di visione del 4K Ruota, ruota! E in più con il ticket estate offri tutti i 51 match di web a Euro 20-24 abbonati ora e scopri l'offerta TV Sky Glass a te dedicata porta Sky nel tuo bar chiamaci all'800 90 33 33 o vai su sky.it bar Nel 1992 uscì il nostro primo album e la nostra vita cambiò per sempre wow ma io tutto questo allora non potevo neanche immaginarlo Mauro, mi sa che la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano Max, andrà tutto bene tifose e tifosi per l'estate italiana di Sky Sport luci sempre accese sul nostro tricolore contro le leggi della fisica ecco a voi gli europei di atletica occhio ai prestigiatori della nazionale sono pronti a incantarvi ancora una volta sul palco di UEFA Euro 2024 e poi il nostro mago tra gli erbivori più pericolosi di Wimbledon ammirate i supereroi italiani oltre ogni record ai giochi olimpici pari in 2024 su Eurosport e ancora tutti i nostri domatori dell'asfalto per spingere il tricolore più veloce della luce i giocoglieri della racchetta nessun cemento è troppo duro per loro e si conclude a ve le spiegate a bordo delle navi volanti è l'estate italiana di Sky Sport perché il più grande spettacolo del mondo non si ferma mai con il mondo con il mondo Buon Zola! Buon Zola! Buon Zola! Zola! Buon Gabin! Lascia il gol! Buon Gabin gol! In questa puntata l'Olympiakos si prepara a combattere per il suo primo trofeo europeo. Dopo 99 anni di storia sarebbe il più grande risultato del club. Parla da solo. Mentre la Fiorentina cerca la rivincita in Conference League. La riscossa giusta per farla diciamo risorgere.